La campagna vaccinale rallenta anche in Versilia. Esaurito l'effetto Green Pass, obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre scorso, si somministrano sempre meno prime dosi e gli accessi liberi sono in pratica sospesi, mentre crescono invece, seppur lentamente, le terze dosi sulle quali si concentrano adesso gli sforzi del governo e della regione. Ma sul richiamo, il cosiddetto booster, siamo ancora indietro, specie fra gli anziani. Nelle RSA della Versilia, il dato più basso dell'area ASL. Solo il 29% degli ospiti è stato vaccinato per la terza volta, nel Pisano siamo già al 90%. Ma la Versilia resta ai vertici toscani sulle prime e seconde dosi, come spiegato dal direttore di zona Alessandro Campani. È vero che c'è stato un momento in cui l'effetto Green Pass aveva portato le persone a fare, attraverso l'open access, richiesta di vaccinazione. Questo effetto un pochino si sta esaurendo e stiamo lavorando soprattutto sulle terze dosi e sull'attività di vaccinazione, quindi sempre di terze dosi, nelle strutture residenziali. Rispetto alle medie regionali, la Versilia si colloca con percentuali leggermente superiori, sia sulla prima dose che sul ciclo completo della vaccinazione. Il boom di terze dosi anche al terminetto è atteso fra fine dicembre e metà febbraio. La lab vaccinale rimarrà aperta. È chiaro che in questo momento abbiamo un impiego di personale, una capacità produttiva ridimensionata alle attuali esigenze di terze dosi che rispecchiano un po' la campagna vaccinale che sicuramente ad aprile non era ancora al massimo e nel pieno della propria attività. È ovvio però che via via che le fasce d'età verranno aperte, secondo le indicazioni poi anche ministeriali, noi comunque abbiamo l'organizzazione per poter sopperire alle richieste. Sul fronte tracciamento con i nuovi protocolli scolastici che cancellano le quarantenne nelle classi con uno o due positivi soli ma a fronte di tamponi a tappeto, resta cruciale la velocità di elaborazione dei test anti-covid per garantire il rientro immediato a scuola degli studenti negativi. La richiesta di tamponi è sicuramente anche qui ridotta, rispetto a quello che noi abbiamo visto nelle ondate più importanti della pandemia. Quindi la nostra capacità organizzativa ci consente oggi di soddisfare la domanda in tempi rapidissimi. Siamo tranquilli che attraverso i drive che sono tuttora aperti possiamo rispondere a queste esigenze.